Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Siamo tutti ragazzi e benvenuti in questo quindicesimo Quindicesimo episodio dell'aglock a poco andiamo avanti perla Qui con noi abbiamo Ciao a tutti ragazzi Io sono Tia e ben ritrovato in questo nuovo episodio Ah se Tia pensavo fossi un altro youtuber Dipende dai giorni onestamente Ciò tre personalità Effettivamente ragazzi dovete sapere che io questa serie qua l'ho fatta con tre youtuber Voi non ve ne siete accorti perché poi c'era Tia che doppiava Però esatto Comunque Tia oggi esplicaci che cosa andremo a fare Andiamo a sfondare Omar Mi sa che Omar che sfonda noi Più che altro si sfonda di carbonara quell'uomo No che odio sta palestra Sai che odio anch'io Mi dice che è insopportabile Però ci sono i bambini in costume Oh grazie Tia Ragazzi ma si solleva mare sollevato il morale che non avete Solo per te Non lavoro solo sul mio corpo per temprarmi Neanch'io Anche se quello degli altri Perfetto ragazzi questa serie sta diventando sempre più trash Tra l'altro stavo pensando Come non siamo finiti ancora in tendenza Ma a parte quello A parte quello che è una domanda più che lecita ma Esisterà per la sidebar una carta TGC di Farfetch? Sì e voglio Esiste? Sì Sei sicuro? Sì Incrustata raghe Sado Oggi Un giudizio di quei potenti Un porcone stavo già per prepararmi la censura Quelli sono inaspettati Non posso predicarvi prima Il giudizio più che altro è universale Ecco Ok per minchia Sbagliato In mezzo all'acqua Guarda che non è il diluvio universale Si ricorda La cresima sette anni fa E cazzo Quanti hai l'ha fatta? Non mi ricordo Prima media l'hai fatta Cioè se l'hai fatta come me Sette anni fa Minchia Drago furia di Polivrat Ti calmi innanzitutto Ma sai che sto pensando che Omar sia allo stesso livello di Marzia? Perché in teoria potevi raggiungerlo prima di Marzia Quindi secondo me hanno pensato Ah no forse sì Secondo me è lo stesso livello di Marzia Perché se ci pensi tu potresti raggiungerlo Prima di Marzia Ah beh Che raggiungerlo? Arche a scombre il board Nel frattempo Battaglia leggendaria Semaforo contro merda Ahia Datto basso Attenzione A semaforo fa baratto Evidentemente vuole Vuole barattare Che novità Che novità Cosa Eh Eh Quello è un problema Quello è un problema Perché Siamo a una forma primitiva di scambio Purtroppo semaforo è un po' Un po' poco evoluto Proseguiamo ti prego Flygon Quindi Eh Megaflygon No dai Poverino Non ci siamo anche flygon Povero flygon È dissato da tutti ormai Cazzo voglio aprire un canale youtube E chiamarmi Megaflygon Autodissermi nei video Quando vuoi avere una mega evoluzione Ma non te la danno Perché sei cancro Ma no Poverissimo flygon Flygon è un gran pokemon Raga È uno dei program più figli Di design secondo me No beh Ci sta più che altro E' intelligente come pokemon Cioè come concept Cioè È un animale Non lo so Però è un animale figo Posto sotto Posto sotto la vece Di un drago Come faccio Io come faccio Alle 11 di mattina Tirare fuori sti termini Scusami No non lo so Ah l'avete capito Che sta registrando Tutto di fila Dall'episodio scorso Quindi sono ancora Preso sia più o meno Il quinto episodio di fila Che lo diciamo Sì Più o meno Perché è così Così a meno ragazzi Se siete tranquilli Lo sapete Ok Siamo cancine Per quello Siamo anche più del solito Siamo cancine Siamo cancine Siamo cancine Siamo ci chiamo Vada è bello Perché poi Dandogli del tumore A te Puoi di stare gli anni Tanto mi disse da solo Do del tumore Anche ad altri youtuber Esatto Che bello Sempre con tanto affetto È tutta una tattica Sempre con tanto affetto Forse Esatto Ok Io non so più Da Omar Io mi sono bloccato Su una piattaforma Senza motivo Io ci sono Io non lo so Che mi mangia Questo Che mi mangia Tra l'altro Da coniugazione Che ho mangiato Dizionari Altro che Oggi lo so più parlare Lugia Iniziamo bene Ma sei già Affidando Stai già sfidando Coso Sì Madonna Dai che passo In vantaggio Ancora di più Dai muori Mi usa sbaviglio Ma Traineruccio È sclerato Ragazzi Purtroppo L'abbiamo perso Mi sento almeno Mascherine Dai L'ho come volta Ti ricorda qualcosa Ti ha l'ho come Fa un culo Bormì Bormì Eh sto infatti No oddio Sono scuro tuffo No 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 Scuro tuffo su Astrid Tra l'altro Zì Il mio Rotom Non riesce più A buttarci un pokemon Cioè O gli fanno boato E scappano O lo paralizzano Come adesso Ad esempio Leggimente Minchia Questa cosa Mi fa Attacco rapido Ok Perfetto Risolto il problema Brutto colpo di Mascherine Lacerazione Oh bello Lacerazione Gli tolgo Volo con Grodon Rega guardate Quante ignorante Grodon Ternello Io c'ho volo Con Rotom Cioè fai tu Su che cazzo Volo solo Lui lo sa Eh sì Io su Grodon Che deve spostare Un continente Per volare E la tetonica Fla che si Muove I continenti Capito L'esero volanti Da dove nascono E cioè Certo E certo Chiaramente Proprio Ho vinto Io non ho neanche iniziato Ho vinto Vinto Ma facciamo anche arrivare In sto E tanto È lì E fa fallo Poi fai la cattura giù A sto punto Al percorso sotto O a Pratopoli Direttamente A Pratopoli Puoi pescare Volendo Sì sì Ok perfetto Ragazzi Io a distanza di tre giorni Sono pronto per affrontare Omar Perfetto Ok Ecco qui Il nostro Carbonaro Perfetto Vieni qua Salve Burro e salvie Raramente mi sfida qualcuno È di fronte a te La gloria del È di fronte a te La gloria di Carlo Cracco Sì sono Omar Il distruttore La mia squadra di Pocca Non è stata Temprata Da Da bianche Paste Al burro Affereranno Tutte le McNuggets Che tiri loro E ti trascineranno giù Non c'è dubbio Che vinceremo noi Forza Buon appetito Vai eccolo qua Il nostro Omar Nome P Si chiama P È l'unica Quella unica frase Che riesce a dire Dopo aver mangiato Pi Strampadanza Strampadanza Il tipo Che sta alla palestra Che ti dice Ciao Caduta Massi No ti prego Caduta Massi Ti odio Caduta Massi Eh Cioè Caduta Massi Parassi Semi Su Serena Ma C'avete Tutti Stas Tutti Non ho Ricordato Presa In simpatia Super Super Pozzio Sì Ma intanto Serena Sta morendo Cioè Nel senso Serena È quella Che deve Resistere Fino alla fine Caduta Massi Su Light Dai Light Forza Confido In te Confido In minchia Cinque colpi Vieni da piangere Nero pulsar Muori Oh c'è Sto Mantain Che sta resistendo Come non so Cosa Ti giuro Ok Io sono andato Il rivale Anche Sì ma Raga Cioè Vabbè Adesso Non lo so Io Mi sparo Cosa fa Cazzo Ma Ah Cricket Madonna Che tristezza Ma Seguiamo La recluta Del team Galassio Ok Ho aperto Coso E tu Inizia Inseguirla Io sono Ancora Qua Ah ma Tratto Lo stesso Episodio L'avevo Schiuso Ma E' Vero Eh Schiudiamo Schiudiamo Adesso Ragazzi Scusateci Faccio Anche L'altra Gattura Sì Ne Schiudiamo Due Tipo Stia Metti Il commento Ricordati di Mettere Il commento In primo Piano Tipo Raga Allora La recluta La Inseguita E Laggata Non T'ha Sentito La Recluta La Inseguiamo Nel prossimo Episodio Adesso Eh Sì Perché Ora Che Tu Fai Il Rivale A Sto Punto Si Inizia Inizia A Schiudere L'uovo Che Non Abbiamo Schifo Sper Stanno Catturando Prima Ok Barry Dove Sta Scusami Ah Devo Far Scappare La Recluta E Il Casello Qua E Arrivato Riona Perfetto Ok Ho pescato Un pokemon Abboccato Poi Nel prossimo episodio Famo La recluta E poi Facciamo Un percorso Per andare A rupepoli Ok Perfetto Almeno Siamo qua Tutti D'accord Sono tutti Catturati 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 Cosa L'arabo Trainertia Poliglotta Raga Quando sai Troppe lingue Le confondi L'una Con l'altra No Ultimo Canto Aia Vero Che Posso Switchare Sì Posso Switchare Funesto Vento Surotto Minchia Se non Posso Switchare Bestem Ok Ho Switchato Perfetto A cazzo Switchato Anche lui Le esce Da una Ultra Volta Paralizzato Le esce Da una Ultra Vol Esattamente Mamma mia Scusami Squirtle Squirtle Non fa Mezzo Giro Con le Ultra Volta Paralizzato Che Caccia Qui è uno starter Eh madò Capì Però Io non posso neanche indebolirlo Non ho mostre per indebolire questo co L'ho preso Con la pokeball Cidè Non fa mezzo giro Che Minchia Son bravissimo Trainer Tia Migliore allenatore del secolo Eh madò Quando segui l'anime Impari Dash Come non catturare Come non vincere Come non vincere la Lega Come non usare Un team della madonna Quando ce l'hai a disposizione Usare i cancri Della generazione In cui sei Un dettaglio Ok Ok perfetto Allora io adesso vado A pescare Quindi tu inizi a schiudere le uova Io pesco Poi ragazzi Nel prossimo episodio Come abbiamo già detto Andremo ad eseguire La Lega E poi faremo il percorso Sotto Pratopoli Giusto Tia Confermaci Questo statuto Eh cosa Sembrava Inseguire le persone Eh beh minchia Soprattutto E' per una piccolina Quanti andiamo E' reclutato In galassia E sarà ormai Sono Già Troppo grandi Sono poi Dattori Kingler Ok Kingler non è male Ad esempio Comando urto Vabbè Comando urto Una buona mossa Però Ma da parte Che tanto lo cambio Che cazzo di problemi Sto facendo Ultra ball Rimani Ci ti prego Preso Madonna che velocità Eh vabbè La che era più grande Una potenza di 10.000 cavalli Anche se è un granchio Eh parevole Poi mi chiedo anche perché Quando carico video Perdo iscritti Ti chiedi Eh La legge La dura legge di youtube Eh La dura legge di youtube Carichi un video E poi Bestemi Dio Sì Allora Qua voglio sapere Chi ha capito La canzone Vipi Pigliamo Sti uovi Vai così Sto cercando di far Schiudere Qua neanche Velocizzando 7k Se scrivono Sti due Ok Velocizzando Cosa Primo Eh Chi è Non lo so Vediamo Ok allora Il primo uovo Che si schiude Al 24 Il secondo Eh Wewile Bello Bello No Fica Se è schiuso Dopo che mi si è drizzato Il cazzo Neanche ho fatto un passo Chi è Vai come lo chiamo Chi è Chi è È pikazu Eh Questo è Anche questo Ma chiamalo L'ho sette due Questo lo chiamo Top five Lo chiamo Ah Oddio Lo potrei chiamare Mosha Volendo Chiamo Mosha Io Come lo chiamo I vice Dente 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 Chiamalo No Falchiamo Mosha Perché maschio Tanto te l'ho già parlato Dei dissing Che ti facciamo In stasera Ti vogliamo un bene Della madonna Mosha Vai così Perfetto Oh Mosha Sarà a livello 24 Tra l'altro Non si vuole neanche per sbaglio L'altro uovo Vediamo L'altro uovo L'hai già schiuso Tu No Sto correndo Ok perfetto Dai Schiudi Tu Minchia Però Se ci mette così tanto Lo voglio Minimo leggendario E anche Mi si sta mettendo Sette anni e mezzo Verà fuori Zubat Me lo sento E' bello Zubat E' gran Pokémon Soprattutto No no Forte Succhiatore Aspetta Sai che non ho controllato Se l'uovo si può Oddio Ho una velocità Schiusura per sbaglio Riolu Ok no Si deve Minchia questo qua Dei gendario Vabbè Riolu E diventa Aura 2 Anche femmina Eh ci sta Attenzione Schiusura dell'uovo Attenzione E' un altro merda E' un altro merda Ok lo chiamiamo Questo lo chiamo Il No lo chiamo Non ho mai Non ho mai concepito L'ipotesi Che potessero esserci Due merda Lo chiamiamo Io ho finito Lo chiamiamo Merdina Merda Junior Merda bravo Merda Junior Mi piace Meno male che ci sei tu Allora aspettate Do sopra noi E poi faccio la conclusione Ragazzi Merda Du Merda Junior Merda Gr E' tipo Gesù Cristo Capito Nella nostra Merda Che poi tipo Mi ricordo Che quando ho iniziato A fare sta cosa qua Di merda Di chiamarlo così La gente mi diceva No Creepy Guarda Merda è il Il figlio della carpa magica L'unico vero Dio Io rispondevo nei commenti No Chi cazzo è la carpa magica Ok ragazzi Quindi Quindi questo episodio Direi che può concludersi Qua nel prossimo Faremo trovare Vabbè Allenati con le caramelle rare Io poi ti è tumore Quindi no I pokemon Capiamo appena schiuso Andremo ad inseguire La recluta del team Galassia Avrò detto team Plasma 3 o 4 volte In questo video Ma sti cazzi Poi proseguiremo Per il percorso sotto Di protopoli Il video sta già durando troppo Quindi io vi invito A lasciare un bel mi piace Un commento in iscrizione Al canale Iscrivetevi Per l'appunto A entrambi i canali Perché gli episodi Visto che qualcuno Ancora non l'ha capito Usciranno sul canale di Tia Cioè Quei pari Escono sul canale di Tia Quelli di spari sul mio Cioè non è che se carico Il 5 e il 7 Mi sono drogato Magari Anche Però In teoria così Nulla Passate ai social In descrizione Per i soliti motivi Che non sto a dirvi Un saluto Da Creepy E da Tia Noi ci becchiamo In un prossimo Video Stai facendo un video Bravo Ciao 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 raga Vi voglio bene